Weee! Non fare il magazzino muffito! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Can you hear the dream in love? In realtà spoilerato questa mattina, fucile di precisione automatico. Tieni gli avversari sotto fuoco a lunga gittata con questo fucile di precisione full auto. Si troverà ragazzi ovviamente nei drop, si troverà nei chest, si troverà nel luttaterra, no, ma si troverà nei forzieri appunto. Ma la cosa ragazzi che tutti stiamo aspettando è direttamente annunciata nella patch notes, la città di Pinnacoli. Neopinnacoli non è più così neo. Una zona fenditura ha trasformato questa località in quello che era molti anni fa. Un insediamento del selvaggio west. E la cosa più selvaggia di questa svolta western è che costruzioni e raccolta sono proibiti. Quindi ragazzi nel battle royale subentra un nuovo metodo di gioco in un'area circoscritta del game. Tanta tanta roba. Arriva anche ragazzi la modalità arsenale per quello che riguarda le LTM. Si gioca in singolo con la rigenerazione. Avanza lungo la lista delle armi partendo dalle più rare fino alle più comuni. Il primo giocatore a ottenere un'eliminazione con l'arma finale vince una modalità che già si era vista in battlefield ai tempi. Per quanto riguarda invece il fucile di precisione automatico sappiamo che sarà disponibile nelle varianti rare, epiche e leggendarie. Utilizzerà munizioni medie e il danno sarà 31, 33 e 35. Mentre gli headshot sono 62, 66 e 70. 4 proiettili al secondo, 16 colpi nel caricatore e utilizza un mirino con zoom ridotto. Tirano fuori ragazzi dal magazzino e attenzione che si generano solo nella città di Pinnacoli la doppietta. Ritorna la doppietta disponibile però solo in Pinnacoli. Ragazzi amo questo aggiornamento, amo il fatto che ci siano dei luoghi dove spawnano armi specifiche, mi piace tantissimo. Sappiamo che avrà la variante epiche e leggendaria, verrà anche tirata fuori dal magazzino la 6 colpi, il fucile da caccia e il fucile da fanteria. Veramente tantissima roba. Alle mie spalle vedete già il tenzone all'astrostazione che è una nuova modalità che già abbiamo visto in game ma che è adesso anche disponibile in creativa ma che è la stessa modalità che è stata usata alle World Cup. Abbiamo anche dei nuovi prefabbricati, la Casa Lunga Vichinga, l'Armeria Vichinga, il Rifugio Vichingo, la Stalla Vichinga e tre nuove gallerie sempre per creativa, il Villaggio Vichingo, gli oggetti del Villaggio Vichingo e la scogliera marrone. Passando invece ragazzi su Save the World la nuova canzone dell'estate. Questa settimana aiuta Colpo da Maestro a raggiungere la stazione radio per trasmettere la canzone dell'estate. Quindi ragazzi pronti a fare le mini missioni anche su Save the World e arriva ragazzi la Thompson. Macchina da scriverla, chiamano qua, torna un fucile d'assalto letale dalla A alla Z. Fixati anche alcuni problemi in game per migliorare ovviamente il gameplay generico. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, noi ci vediamo in live poi su YouTube alle 15. Per quelli che sono qua e mi stanno guardando, non me ne sto andando. Ciao!